questo è l'attrezzatura vedete come siamo strutturati cannino metterò l'ombrichino e via ne sappiamo una più di un pesce buon dito full timer pesca ragazzi oggi un'altra giornata un'altra puntata barchino con mini rod cannetta da pesca vedete questa cosa verrà montata così in questa maniera qui vedete una cosa bellissima una cosa bellissima la vedete oggi andremo a pescare così con l'ombrico e vediamo pesca la traina e vediamo che cosa combiniamo dai su non riesco a prendere ma poco tac ovviamente il danno fa sempre parte del nostro bna non riesco a prendere ma poco tac non riesco a prendere ma poco tac no rica non riesco a prendere ma poco tali anche la traina e vediamo non riesco a prendere ma poco tac non riesco a prendere ma poco tac a fine che non ci sia merda qui perché non mi piace se no abbiamo no perché vai in fondo per mangiare mangia non ce la posso credere non ce la posso credere l'ho preso l'ho preso che l'ho preso e lì guardate ecco ecco porco che vedete che non riesco a tirarlo su ma porca tratta e girati gira che fatica ragazzi gira non è una macchina una parca per fare questa cosa qua e bamba dritto fa troppa fatica una macchina più potente troppa fatica eccolo qua ci siamo ragazzi ci siamo americano nooo da paura da paura aspetta che adesso girano webcam facciamo un bel giro tac ragazzi miei un bel like e campanellina per vedere i nuovi video di full timer pesca oggi ce la siamo sgrossata col barchi ci siamo ragazzi ho dovuto tirare su la barca perché se no me la fondava di brutto non so che minchia è non sembrerebbe tanto grossa però orchele non mi sembra grossissimo insomma però è incazzata dove ui questa è una carpa però ecco non 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 non